c'era nella città di torino un uomo benestante con tre figli maschi il maggiore si chiamava giuseppe un giovane ingegnoso che sempre mulinava in capo l'idea di fare un viaggio voleva vedere la città di costantinopoli il padre che voleva dargli moglie per farlo erede ed avere da lui una discendenza non voleva lasciarlo partire ma giuseppe non aveva mente altro che ai viaggi finalmente il figlio mezzano prese moglie e il padre pensò a lui come a quello che gli sarebbe succeduto nei suoi negozi e avrebbe continuato il suo nome così si risolse a lasciar partire giuseppe che si imbarcò con un baule pieno di robe di arnesi e di quattrini verso la città di costantinopoli in alto mare venne una burrasca il bastimento trabalzava e i marinai non l'avevano più in mano persa la rotta sbatté contro uno scoglio tutta la gente sparì sotto le onde ed affogò giuseppe saltato via dalla nave che affondava si mise a cavalcioni del suo baule che non aveva mai voluto abbandonare e così restò tutta la notte sballottato nella tempesta finché il vento non lo tracinò sulle spiagge di un'isola mentre il sole spuntava su dal mare che si andava quietando l'isola pareva deserta benché ricca di alberi e di frutti ma mentre giuseppe esplorava intorno ecco che sbuca fuori un branco di selvaggi vestiti di pelli animali giuseppe andò al loro incontro chiese ospitalità se volevano trasportargli il baule ma non c'era verso di farsi capire giuseppe tirò fuori una moneta d'oro e la porsi ai selvaggi quelli la guardarono come non sapessero che farsene mostrò loro l'orologio ed era lo stesso che si avesse mostrato il tacco di una scarpa mostrò un coltello e con esso tagliò il ramo di un albero i selvaggi si misero a guardarlo interessati e molti tesero la mano per avere il coltello giuseppe fece cenno che non voleva darlo a nessuno di loro ma qualcuno superiore a loro ed essi gli presero il baule in spalla e lo condussero alla grotta dove abitava il loro re tra il re giuseppe si forma presto una vera amicizia il torinese stava nella grotta reale e imparò la loro lingua insegnò ai selvaggi molte cose che si non sapevano per esempio trovò che nell'isola c'era tanta pietra da calcina e terra giglia e insegnò a cuocere i mattoni e a farle case il re lo nominò vicere e infine gli offerse la sua figlia in sposa quest'ultimo onore non garbò al forestiero sia perché aveva già una bella selvaggia di cui era innamorato sia perché la figlia del re era la più brutta ragazza che il viaggiatore potesse mai incontrare ma era solo in mezzo a quel popolo incivile su un'isola da cui non si poteva scappare guai se perdeva l'amicizia col re dovette consentire alle nozze con la sua innamorata si separarono piangendo ma sempre d'amore e d'accordo giuseppe sposò la figlia del re mentre la sua bella per non dare sospetti si sposava anche lei con un vecchio pescatore il torinese se guardava gli interessi non poteva star meglio non era re ma poco ci mancava ma solo una cosa non aveva ed era il pane della contentezza e si sentiva l'inchiuso lì come uno schiavo e si pentiva di non aver dato retta a suo padre tutto un tratto la figlia del re s'ammalò e venne a morte ci fu un gran lutto in tutto il regno il re poi non sapeva consolarsi di quella perdita e non smetteva di piangere e lamentarsi per consolarlo giuseppe gli disse ma senta ma sta bisogna in qualche modo rassegnarsi lei non ha più la sua figliola ma resto pur sempre io a tenerle compagnia disse il re se piango non è solo per la perdita di mia figlia ma anche per la tua la mia perdita esclamò giuseppe che intende dire maestà non conosci le leggi di questi paesi disse il re se muore uno dei coniugi bisogna che l'altro sia seppellito insieme le leggi e gli usi lo comandano bisogna obbedire vane furono le proteste e i pianti di giuseppe cominciò la processione del mortorio i portantini reggevano la vara della sposa vestita da regina e dietro veniva giuseppe mezzo all'occhito dalla paura e poi il popolo faceva corteo con pianti e duggioli la tomba era una gran caverna sotterranea serrata da un pietrone là spostato il pietrone venivano calati tutti i morti con le loro ricchezze giuseppe volle che con sé fosse calato il suo baule carico ad ogni cosa preziosa e gli diedero anche roba da mangiare per cinque giorni e un lume finita la cerimonia richiusero la bocca della caverna col pietrone e lo lasciarono là solo col cadavere giuseppe col suo lume volle esplorare bene la caverna era piena di morti alcuni recenti altri ormai scheletri e con i morti c'erano tesori d'oro d'argento e di pietre preziose e lui pensava quanto poco tutte quelle ricchezze valessero per lui condannato a finire lì i suoi giorni per quell'usanza selvatica così sedette stanco e disperato sul suo baule e ogni tanto tirava fuori di tasca l'orologio e guardava l'ora e si preparava all'idea della morte dopo mezzanotte udì come un calpestio volse gli occhi intorno e vide che nella caverna veniva avanti un animale qualcosa come un grosso bove l'animale si avvicinò a un cadavere lo prese per i capelli con i denti gli dette uno strattone in aria fino a farselo girare sulle spalle e quel cadavere in groppa se ne andò via e sparì nel buio la notte dopo alla stessa ora l'animale tornò e portò via un altro cadavere giuseppe questa volta gli tenne dietro la caverna finiva in un corridoio in discesa e dal ribollio dell'acqua laggiù in fondo capì che finiva in mare la scoperta lo riempì d'allegria ormai si sentiva sicuro d'ussir vivo dalla caverna ma non voleva fuggire a mani vuote con tutte le ricchezze che aveva a portata di mano perciò rimandò la fuga all'indomani dato che ormai era quasi giorno e non voleva farsi scoprire dagli isolani passò la giornata a preparare la roba che aveva portato con sé quando ecco intese il solito canto che accompagnava i funerali e vide spalancarsi la porta della caverna calarono giù il cadavere di un uomo e dietro veniva una donna viva con un lume ed un cesto di cibi giuseppe nascosto dietro un macigno aspettava che la caverna fosse richiusa per palesarsi a quella compagna di sventura essa vista nel fondo della caverna il baule di giuseppe vi si accostò piangendo e disse povero il mio giuseppe a quest'ora lui sarà belle morto e a me tocca la stessa barbara sorte allora giuseppe riconobbe nella donna la sua antica innamorata che sarà sposata un vecchio pescatore ora morto e uscì fuori e l'abbracciò e le disse no che non sono ancora morto né lo sarò ma fuggirò con te da questo sepolcro la donna superato il primo spavento e il timore che giuseppe non fosse già un fantasma disse nessuno è mai uscito vivo di qui come puoi sperare ancora giuseppe le spiegò la sua scoperta e insieme mangiarono le nuove provviste portate dalla donna e aspettarono la venuta del bove quando il bove venne e sarebbe portato via un cadavere giuseppe lo seguì pian piano finché vide in fondo alla caverna il luccichio della luna sul mare e il bove che nuotava via col morto in groppa anche giuseppe si gettò a nuoto fece il giro dell'isola s'arrampicò nel buio fino alla bocca della caverna e riuscì dopo grandi sforzi a muovere il pietrone calò una fune che aveva portato attorcigliata alla vita e la sua donna che stava ad aspettarlo piena d'ansia laggiù in fondo legava la roba che lui hissava fino a sé erano le pelli d'animali tolte ai morti e riempite d'oro d'argento e pietre preziose poi per ultimo i baule di giuseppe e alla fine la donna quando furono entrambi fuori dalla caverna con la roba si diressero al confine di un altro regno che c'era nell'isola e riuscirono a passarlo prima che fosse giorno presentatisi al sovrano raccontarono la loro storia e furono accolti con generosità nella stessa abitazione del re giuseppe passò molti anni in quel regno e debbe tre figli maschi ma benché non mancasse di nulla e fosse diventato primo ministro aveva sempre il desiderio di tornarsene a torino sua città natale si costruì una barca con la scusa di servirsene per suo passatempo e con essa si inoltrava nel mare con la moglie per poi tornare alla spiaggia alla sera così che il re non avesse sospetti ma in una notte serena si imbarcò con la moglie e i figli e il baule e tutte le ricchezze e remò fino a perdere di vista l'isola e quando al chiaror della luna gli parve di scorgere un bastimento lontano soffiò nella tromba marina a chiamare soccorso era una nave che andava a costantinopoli così giuseppe vide coronato il sogno della sua giovinezza andò a costantinopoli e con le ricchezze della caverna dei morti aperse una bottega d'orefice e gioielliere e tornò a torino ricco e felice dal vecchio padre che sempre l'aspettava grazie grazie